Amedeo Martegani, 1963 Amedeo Martegani è un artista italiano autore di installazioni, dipinti e fotografie. Vive e lavora a Milano. Allestisce la sua prima esposizione individuale nel 2000 a Guadalajara, Messico. Tra le sue opere vi sono paesaggi ad acquerello, fotografie manipolate al computer e articoli d'arredamento che presentano irregolarità biomorfiche.